Seconda parte del nostro discorso dedicato al 5G e al ruolo che ha avuto anche la Sardegna attraverso l'Avvocato Scifo e attraverso le forze che si sono unite per cercare di mettere quantomeno in discussione se questa nuova tecnologia potesse nuocere la salute oppure no. Allora Avvocato eravamo giunti al marzo, che cosa è accaduto dopo? La comunità europea si è espressa a vostro favore oppure no? Il 13 luglio la Commissione europea ci ha dato una risposta che è una risposta in qualche modo rivoluzionaria. Nel senso che non solo sono stati superati i precedenti criteri che in qualche modo l'Unione europea aveva adottato nella misurazione dell'impatto delle telecomunicazioni e del 5G sulla vita dei cittadini europei, ma anche gli organismi e le linee guida per la misurazione dell'eventuale impatto sulla salute verranno modificate. Nel senso che non ci sarà più un unico organismo indipendente come l'ICNIRP che vigilerà o che in qualche modo darà i suoi pareri alla Commissione europea, ma la Commissione europea si avvarrà di più organismi indipendenti, quindi non più soltanto uno, ma farà ancora di più, creerà una nuova autorità indipendente europea che andrà a valutare l'impatto sulla salute e sull'ambiente di questo tipo di irradiazione per quanto riguarda le irradiazioni non ionizzanti. Perché in questo caso noi stiamo parlando di radiazioni non ionizzanti, cioè stiamo parlando di quel bagno in cui siamo immersi tutti quanti noi ogni giorno per effetto del funzionamento del 5G. Si parla di telefonini tra le altre cose e infatti proprio i telefonini sono stati oggetto di una nostra specifica richiesta alla Commissione europea. Noi abbiamo chiesto alla Commissione europea di valutare se sia il caso di inserire nei telefonini un avvertimento precauzionale sulla loro pericolosità. Cioè a questo punto a me piace fare un parallelo con quello che è accaduto nell'industria del tabacco negli anni 70 dello scorso secolo. Noi sappiamo bene che prima che venisse apurato su scala internazionale che il tabacco era nocivo, che aveva degli effetti in qualche modo cancerogeni, è stata necessaria una battaglia in qualche modo terribile tra chi sosteneva che il tabacco era nocivo e chi invece produceva il tabacco e sosteneva che questo era assolutamente innocuo. La stessa cosa, nella stessa situazione noi ci troviamo per quanto attiene al 5G o comunque all'influsso delle relazioni non ionizzanti, all'impatto delle relazioni non ionizzanti sulla vita umana e sulla salute umana. Esistono effettivamente studi contrastanti, ma esiste anche nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea un principio di precauzione. Cioè il principio di precauzione prevede che fondamentalmente all'interno dell'Unione Europea non possano essere utilizzati strumenti o essere adottate prassi se c'è in qualche modo un dubbio che questo tipo di strumenti o questo tipo di prassi possano essere nocive per la salute umana. Ecco, su ogni strumento dovrà essere riportato, questo è il nostro obiettivo, un avvertimento che ci dice, guardate, usate con precauzione questo strumento perché può avere effetti negativi. Quindi a noi non compete dimostrargli gli effetti negativi, a noi compete sottolineare che non è stato dimostrato il contrario. Cioè che non è stato dimostrato che faccia bene. Quindi voglio dire, la grande campagna che anche viene fatta dalle telecomunicazioni che inverte l'onere della prova, cioè posta sul consumatore l'onere di dimostrare se fa male o fa bene. No, in realtà chi deve dimostrare che fa male o fa bene è chi mette in commercio un prodotto.